Mi dovete scusare, non so cosa ho premuto. Cioè, lo so, mentre abbassavo ho premuto anche il tasto condividi. Quindi, cominciamo da caso. Piano, abbasso la telecamera così. Eccoci qua. Qua c'è già la macchinina, macchina per cucire. Inizierò oggi con il cucire leghette. Allora, leghette ho pensato di farle con una mallina rossa, che come avete visto adesso ho rinnovato anche un po' il kit della bambola e comprende adesso anche la mallina questa qua. Comunque, la mallina, quello che avete, perché ognuno probabilmente sta facendo la sua colorazione della bambola e quindi scegliete un colore adatto alle scarpe e adatto all'abito. le ghette, cioè la mallina, la mettiamo in due. Ok? Là dove la piega mettiamo la parte dritta e disegniamo la nostra laghettina così. Uno, uno e due. Ok. Volendo posso anche non tagliarli perché basta che faccio tutta una cucitura da qui a qui, tutto unito, da qui a qui e ho fatto. Quindi continuerò così proprio. Va bene? Allora, la macchina è pronta. L'avevo messo proprio adesso. Avrei dovuto utilizzare il figlio grosso in questo caso, però non mi è facile cambiare il figlio. ogni volta, soprattutto in diretta, quindi ho messo bianco perché poi qua mi servirà il bianco e così. Quindi faccio la cucitura. qui che c'è lo stacco ho fatto un po' di maniore per assicurare il bianco. per assicurarmi la cucitura di qua e di là. Ok. Lighette, devo dire, è una delle cose più semplici da fare. Sembra che sia scurito un pochettino. Va bene. È andato via il sole, la verità. Adesso ritagliamo. Da noi oggi è freschetto, sapete? Non so perché, non ha piovuto. Ieri notte è piovuto e è rinfrescato. Poi durante la giornata si è scaldata l'aria, è ok. Stanotte, invece, non so cosa ha fatto. Sarà il vento. So che da stamattina l'aria è fresca. Ancora non è estate. Sì, da me nelle marchi è così. Ciao, ciao Alessandra. Allora, rivoltiamo adesso la nostra agghetta, così, una e due e andiamo a metterla direttamente sulla gambina. La parte questa qua sporgente, questa, va dietro. Vedete? Va dietro. Abbasso fino a giù. Adesso la sistemiamo e anche questa. Allora, di solito le ghette vengono fissate direttamente alla gamba, in senso che o con la colla a caldo o con un'altra colla che potrebbe essere anche attacca, viene fissata. Visto che non abbiamo rifinito le parti sotto, facciamo un piccolo risvoltino così all'indentro, su tutta la circonferenza. Ed è così. Qui lo stesso sopra, facciamo un risvoltino all'indentro e abbassiamo fino a dove ci piace, al nostro piacimento. Perché basta che facciamo così e abbiamo abbassato e accorciato la ghetta, vedete? Quindi, chi ha, a parte voi, probabilmente lo farete dopo, mentre oggi state solo guardando, quando andrete a fare veramente questo lavoro, preparate la pistola a caldo oppure la colla e vi incollate un po' qua, un po' là questo lavoro. Lo stesso faccio anche qua. E anche qua faccio il risvoltino all'indentro, così. Soprattutto la circonferenza. Conferenza. 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 Dopo rigoliamo anche l'altezza di questa parte controllando che siano uguali e il gioco è fatto. Ma comunque ancora dobbiamo metterli i pantaloncini quindi questo lavoro lo dovremmo ancora magari rifare. Sì, questi video rimangono sia qua sia sul mio canale YouTube. Certo, secondo me verrà una bella bambola. Ancora non la vediamo con gli occhi fisici però se posso utilizzare dei termini un po' diversi io già nella mia mente la vedo. Secondo me verrà una bella 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 bambolina. Comunque vedo se ce l'ho comunque la colla qua vicino, se ce l'ho lo faccio anch'io. Sì, è benissimo. Eccola qua. Utilizzerò. Qua, tac. Ci metto un boccettino qua, qua e là così. Questo per. E lo stesso anche sotto. Unica cosa fate attenzione a farli uguali. Quindi non avete fretta. Questo per. Grazie a tutti. Ecco, piano piano, ho fatto un goccettino, un goccettino, un pochettino, poco poco. Chiata che vada male, attacca subito. Non serve fare un bagno qua di colla. Sempre che è meglio che lo fate con calma. Io adesso ne faccio una. Poi l'altra la faccio dopo perché ci vuole guardarli, metterli vicino. Non so cosa state dicendo, state facendo la chiacchiera tra di voi, va bene? Se siete carine. Allora, una l'ho fatta, ed ecco qua. Questa l'ho fermata proprio. La prossima, quando le metterò vicine, quando già le attaccheremo, sistemerò anche la prossima. Perché è importante averli una vicino all'altra. Alla fine potete farlo anche voi nello stesso modo. Per adesso andiamo avanti e le facciamo i pantaloncini. Allora, come si fanno i pantaloncini? I pantaloncini in questo caso non sono i colla perché saranno bassi, cioè saranno alti. Non finiranno qui, ma finiranno più su. E la maglina, questa è la maglina. Maglina, leggera, eccola qua. Stavo rispondendo a Gabri. Allora, la stessa, diciamo simile, maglina, utilizzerò molto leggera, leggeruccia, però il coprente, color rosa pallido, utilizzerò per fare, troverò la, questa dovrebbe essere la parte posteriore, faremo i pantaloncini. Come li facciamo? Questo è tantissimo, mi servirebbe la metà, però questo pezzettino ho tagliato e questo utilizzerò. Allora, lo misuro, misuro il corpo. Così. Vedete? Proprio lo avvolgo e prendo la misura qui. Faccio un segno. Vedete? Ho fatto un segno. la linea di dimarcazione. Allora, ora. Praticamente questi saranno, sarà la circonferenza dei miei pantaloncini. vedete? Questa. Non come piegavo io. E qui, adesso, un'altra misura dobbiamo... Sì, il sedere sporge così. Sì, sì. Eccolo qua. La cosa, però, un po' più importante, è le gambe. Nonostante che io, adesso vedete, ho preso la misura del culetto, va bene. Ma, se nelle gambe poi non mi entra, il gioco non vale, in effetti. Perché vedo che le gambine sono abbastanza ciotte. Quindi, ci vuole un po' di più. E un centimetro in più di quello che avevo segnato. Va bene. Vi dirò che questo è 9 centimetri piegati qua. Ok? Faccio la cucitura tutto lungo. Semplicemente dritta. Ancora non taglio niente, perché non so quanto saranno lunghi. Decideremo dopo. Questo metodo, in realtà, sembra arrangiato, ma vi dà la possibilità di giustrarvela con qualsiasi bambola. Cioè, su qualsiasi bambola, avete due gambe, avete il corpo, cominciate a misurare un po' e alla fine riuscite a fare un pantaloncino senza avere niente di particolare, nessun cartamodello, niente. Allora, io sono buongiorno, Anna Rita. Buongiorno, cara. Allora, brava che sei venuta. Da noi c'è sempre l'atmosfera giusta per star bene. Sono arrivata fino a qua perché poi penso che è troppo lungo. Allora, qua ho fatto un tubolare, vedete? Adesso piego, piego così. Questa è la cucitura, piego su se stesso. La cucitura la porto davanti, così non mi sfugge, non mi sfuggerebbe in ogni caso. E qui disegno le gambe. Li provo anche, significa che metto dentro la gamba, così, e faccio la prova. Vedete? In questo modo. Ciao Rosanna, ogni tanto ci becchi mentre stai al lavoro. Brava. Quindi, io ho disegnato perché più o meno lo so come sono le gambe, anche perché le ho misurate prima. Voi prendete meglio la misura di ogni gambina, significa che la metto qua dentro. E misuro. Entra, non entra. Perché poi la gamba deve entrare qua dentro, eh? Sì, vedete che la misura che avete fatto è un po' diversa. Per esempio, io qua misuro quattro, qua misuro tre e mezza. Mi pare che mi ha scorso un po'. Cioè, è molto importante rimanere al centro. Quindi, per questo casomai facciamo così. E se scivola, dopo ci troviamo una gamba più stretta, un altro più larga. Lì, mesuriamo un attimo. Questa è tre e mezzo, e questa adesso tre e sei. Diciamo che è più o meno. Adesso lo faccio dritta. Lunghi così non mi serve. Penso di arrivare tipo fino a qui. Saranno così. Sarà così il pantaloncino. Cortino. Ma giusto per farvi vedere come viene costruito il modello. Il modello viene costruito man mano che lavoriamo. Quindi, ho misurato qua, ho misurato qua, va bene, non va bene. Ho misurato con il righello. Corrisponde, corrisponde, ok. Adesso, se io sono sicura di quello che sto facendo. Sempre questa cucitura deve essere un po' allargata. Posso andare a cucirli. Cucirli significa che faccio, se ho deciso qui, tipo così. Faccio questa cucitura qui, in consecutiva. Senza interrompere. Faccio qua. Ok? Tutto l'uvo. Ho tracciato. Faccio qua. Faccio. Grazie a tutti. in realtà è una cosa semplice anche questa. Questi sono i pantaloncini più facili che possiamo fare per una bambola. Ritaliamo la parte all'interno facendo attenzione alle cuciture. Tagliamo tutti i fili e possiamo girarli. Vediamo quello che è uscito fuori. La cucitura andrà dietro e questa parte andrà davanti. Eccoci qua i nostri pantaloncini. Ora non so se ho la destra o la sinistra penso di sì. Ecco così. Prendo le gambe e le metto direttamente dentro. Proprio così. In questo caso l'abbigliamento viene fatto direttamente sulla bambola, come anche quasi sempre, però in questo caso addirittura ancora prima di cucire le gambe. quindi li faccio indossare tutto, cioè proprio fino a giù così. Ok? Per adesso è questo che devo fare, non mi interessa altro. Ok? Ciao Wanda, ciao Marcella, scusate non li avevo visto. Allora, questa è la prima cosa che dovevo fare. Lasciamo così, con il pantaloncino calato ancora. prendiamo il nostro corpo, prendiamo un ago grande e lungo. Questo è tipo 13 centimetri. Mettiamo di fronte a noi le gambe, così, dritte. Già più dritte possibile. così. E inseriamo all'interno il corpo, cioè dritto sempre prendendo bene la misura. Lo metto un po' davanti, se no non lo vedete. Da qui, un centimetro dal bordo al centro, inserisco l'ago. Adesso io per farvi vedere, vedete? Circa un centimetro dal bordo passo e esco di qua sempre al centro. Cerco di andare parallelo al pavimento, infatti ho alzato un po', adesso vedete bene. Sta andando bene. Inserisco appunto il corpo e dove sta la cucitura sarà la mia entrata. sempre che ricordiamoci che dobbiamo uscire di qua alla stessa altezza. Entrare di qua alla stessa altezza. Eh sì, è un gioco così. E poi cominciamo a controllare se siamo usciti bene, non siamo usciti bene. Io sono andata storta, per esempio, quindi esco, rientro e riprovo. Si vede già da qui, dalle gambe, se stanno dritte o no. Questa è la parte del discorso più importante dell'assemblamento della bambola, perché se voi mettete storte le gambe, la bambola sarà storta. Molto semplice. vedete? È storta. Io non so se si vede, ma un po' mi pende il corpo di qua, di qua. Quindi io devo, giro il corpo, sembra che ha il filetto davanti. Quale filetto? Comunque continuo a prendere la misura finché non ottengo il risultato desiderato. In questo caso, secondo me... vediamo... forse, forse no. Devo, per far sì che il corpo va qui, devo abbassare un po' l'ago stesso di qua. Poi rientro e riprovo. Adesso sì, mi sembra che sta perfettamente dritta. Guardo da sotto. Scusate, da sotto per me, ovviamente, io sto guardando mentre l'ho alzata, ma anche voi dovete fare la stessa cosa. Dovete guardarla da tutti i punti di vista. Quindi la mettete così, se sta in piedi, come sta in piedi, bla bla bla, poi la mettete davanti. vedete se sta storta. In effetti la mia è ancora storta. Armiamoci di pazienza. Il gioco è così. Non è un gioco per bambini. È un gioco serio. Per quanto può sembrare che ci vuole... io vi dico che ci vuole, sì, ci vuole, poi altro che ci vuole. Ci vuole un bel po'. Perché se avete fretta, farete dei mostri storti. Poi, vabbè, in diretta vi dirò che la concentrazione è divisa, quindi io mentre parlo penso anche a come devo fare sempre che la voglio fare bene, a prescindere. Parlo o non parlo? Un po' si modificherà poi mentre io le stringo, la verità. Ok, diciamo che ho raggiunto il mio equilibrio. Questo. Secondo me adesso sta dritta. Dritta. Ehi, ciao Milena! Va bene, ti ringrazio. Mi dici che poi mi manda le foto del lavoro perché lei la sta facendo con me. Bravissima. Grazie Milena. Non lo deve salvare perché il video resta qua sulla pagina, tranquillamente. In ogni caso, una volta che abbiamo fatto questo lavoro, abbiamo visto che la bambola sta dritta, tutto a posto. Prendiamo l'ago, un altro ago, l'ago con il quale attaccheremo i bottoncini. Due bottoncini. In questo caso utilizzeremo dei bottoncini che sono trasparenti, ve li consiglio, sono molto carini perché manco si vedono alla fine. Un filo abbastanza resistente. Utilizzo questo che è di cotone. Se per voi è possibile, utilizzate il filo in quattro. Possibile in quanto se ci riuscite a metterlo. Io adesso ci provo. Nel senso che non mi entra. Qua. Ok. Uno. Ma se siete, se avete il buco più grande, magari potete fare anche filo in quattro. Esatto, doppio filo perché di solito tiro abbastanza e meglio. Lo stesso quello che ho fatto con questo ago faccio con questo. Quindi entro qui, vicino all'ago, passo proprio tutto vicino a questo ago qua. Sembra che questo è più alto, quindi io vado. Ecco, sto passando praticamente sullo stesso buco. Vedete? Uno accanto all'altro. Anche qua. Cerco di passare vicino e esco dall'altra parte. Questo ago è leggermente più corto, quindi... Casomai mi aiuto con una pinza. E lo faccio uscire dall'altra parte. Questo qua adesso non mi serve più, lo tolgo. Di qua ci metto un bottoncino. Così. E ritorno indietro. Passando sempre vicino là dove ho iniziato. Cioè là dove è passato il filo. Uno vicino all'altro. Distanziati magari di 2-3 mm, non dico di no. Ecco qua mi sono persa completamente. Ecco qua. Benissimo. Anche nella gambina. E anche nella gambina. Oh, bene. Ci sei bimba? Sembra che ci sta, eh? Sembra. Tiro fino a che il bottoncino di qua non mi si sistema e tutti i fili non vengono tesi. Così. Così. Adesso, adesso, spagnolos, ci metto il bottone. Ecco qua. Io sono arrivata a questo punto. Posso tagliare anche l'ago. Adesso inizia il bello. Mi pareva che abbiamo finito. Faccio il nodo. Ma non fino in fondo. Metto il nodo sul dito. Così. E comincio a tirare. Ecco, lo tengo proprio. E tiro le gambe. E tiro il filo. Così. Stringo. E tiro. Adesso con i denti. Sì. Vi insegno a utilizzare il quinto arto. Denti. L'ho stretto. Ragazzi, se no stiamo qua fino a stasera. E faccio il secondo nodo. Perché comunque ci vorrebbero, se per me ci vorrebbero due persone. Non credo che voi avete gli aiutanti neanche io. Secondo nodo. Stringo. Ecco qua. Avete assistito a una cosa? Che non ho mai fatto in diretta. Ma io devo essere sincera. Cioè, con queste cose... Uhtì. Guardate quando mi si è spezzato. Quando ho fatto doppio nodo già. Wow. Che devo dire? Wow. Non mi muovo. Spero che tiene. Mi si ha rotto proprio dopo aver fatto doppio nodo. Va bene. Io non respiro. Bambola non rispira. E' tutto a posto. Allora, vedete, si tiene tutto. La bambola sta in piedi, sta in piedi dritta. questo è importante, questo gioco che sta facendo è semplicemente per il fatto del fondo, un pochino lo fa, ora tiro su i pantaloncini, voi se non vi si è rotto fate un altro paio di nodi per favore, tiriamo su i nostri, possiamo dirle, mutandine, pantaloncini, come volete chiamarli, qua io lì faccio la pieghettina, cerco di farla un pochettino carina, perché allora non tutte le maline sono uguali, attendiamoci, ci sono le maline che magari se perde il filo, che potrebbe essere non lo so, tipo filpetta, a volte perdono un po' il filo, quello là ci vuole un po' più accortezza, la mia comunque non perdeva il filo in ogni caso, voilà, per oggi è praticamente un pantaloncino, adesso lo fissiamo qua in alto, lo fissiamo così, poi lo sistemiamo un po' meglio adesso, un po' così, arrangiatiella, e ci mettiamo, ci mettiamo, cuciamo direttamente il pantaloncino sul corpo, quindi un naghetto con il filo, please, eccolo qua, Allora, nel caso mio l'altezza è più o meno giusta, un leggermente sopra la vita, quindi quando avrai l'abito, questa parte che io cuccio sarà sopra la vita, e quindi non si vedrà, rimarrà dentro, nel caso il vostro pantaloncino, che spesso capita anche a me, perché taglio, poi cuccio e mi arriva più in alto, e lì casomai taglio, faccio un pochino più basso, non che deve arrivare alla gola, al collo, anche no, e adesso semplicemente fisso il pantalone al corpo, un pochino più basso, non che deve arrivare alla gola, al collo, anche no, un pochino più basso, non che deve arrivare alla gola, al collo, anche no, io ho finito, anche il filo è finito, quindi faccio l'ultimo modo di chiusura, e ho fatto, eccoci qua, praticamente l'ho cucito qua sopra, è diventato una cosina caruccia, vedete quanto è carina, la bimba, è proprio carina, c'è il culetto, c'è tutto, c'è una bimba, ecco qua, qui adesso prendo bene la misura, me la metto di fronte, fisso tutte le ghiette, volendo lo posso fare anche con il pantaloncino, però preferisco farlo anche questo dopo, quando avrò già messo l'abito, le ghiette invece le faccio adesso, ecco qua ragazzi, spero che chi arriva a questo punto del lavoro, se vi va, pubblicatelo qua sotto, sotto al video, mi fa tanto piacere vedere sempre i vostri lavori, ok, eccomi qua, ritornando a noi, i video, mi state chiedendo, i video sono tutti qua, oppure sono sulla pagina, sull'account, youtube, intreccio, di Tatiana Goberava, dove appunto ci sono già tantissimi, altri video riguardanti le bambole, riguardanti la spiritualità, riguardanti, basta, quello, grazie Maria, penso verrà 28 centimetri circa, non lo so ancora, mettiamo un 28-30 centimetri verrà la bambola, tenete d'occhio la pagina, tenete d'occhio la pagina, perché a breve, oggi domani, pubblicherò il video da condividere per avere il corso della bambola con miglietta, quindi non perdetevelo, un corso completo, completo, cioè da A alla Z, dal corpo fino all'orecchia, la verità, e portatemi a mille, ho fiducia in voi, e ho fiducia in me, e so che insieme ce la faremo, per oggi io vi saluto, ci vediamo, brava Alessandra, dice che stasera si mette all'opera, bravissima, grazie Silvia, grazie, sei molto gentile, continueremo a fare la bambolina il sabato, alle ore 15, tra l'altro anche mercoledì, penso che a tanti di voi vi fa più comodo alle ore 15, quindi metterò, cambierò il banner della pagina, mettendo anche il mercoledì alle ore 15, ricordatevelo, faremo sempre le 3 praticamente, così nessuno si sbaglia, sarà il nostro orario fisso, mercoledì alle 15, sabato alle 15, marino, marino, sono in ritardo, sì, abbiamo finito, infatti, sabato vi aspetto che cominciamo a fare l'abito, pom 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 pom, verrà molto molto carino, vi assicuro, verrà una cosa, l'abitino faremo, anche se all'inizio pensavo di farle la felpa, ma la felpa la farò poi al Mickey Mouse, che anche quello è in progetto, quindi un abbraccio a tutti, vi auguro buona giornata, seguitemi sia qua, sia sul mio account personale, dove condivido sempre nella storia le mie riflessioni sulla vita, sulla creazione, sul nostro atteggiamento e sulle tante altre cose, che poi trovate pubblicate anche sull'account YouTube, c'è la pagina Le Bamboli di Tatiana Govera, dove condivido le mie bamboline, insomma, dove volete, io ci sono, io ci sono ovunque per voi, vi abbraccio forte a tutti, ciao! Grazie Silvia, ti aspetto, quando avrai finito, pubblica la foto, mi fa piacere!